un milan in rimonta ragazzi esattamente un milan che si dimentica di entrare in campo nei primi 20 minuti proprio blackout totale infatti risulti glasgow nei primi 20 minuti oltre a fare i primi due gol ha avuto anche altre due occasioni nitide e poi c'è stato anche l'infortunio di Chier ragazzi che quello lì è un brutto copo per il milan perché Chier in queste ultime partite ma già da un bel po' dà tanta sicurezza in difesa infatti al suo posto entra Romagnoli che era in panchina per riposo perché comunque c'è da dire ragazzi che il milan stasera ha fatto anche un po' di turnover lasciando comunque in panchina sale makers lo stesso tonali ben a sera centro campo non c'erano Chier si è fatto male Romagnoli in panchina poi dovuto entrare un po' di turnover ci sta ragazzi poi mancavano sempre i soliti breakage le opere di infortunio giustamente il milan deve anche dosare le forze ripeto un milan che nei primi 20 minuti spento spento siamo ancora negli spogliatoi il primo gol arriva arriva su un tiragiro col mancino del giocatore del Celtic che adesso non mi ricordo come si chiama scusate dove poi tra l'altro dopo ne ha avuto un'altra sempre sul mancino a giro e ha riscatto di fare anche il 2 a 0 poi a un certo punto c'è stato anche l'uno contro uno contro Donnarumma che ha fatto una bella parata Donnarumma c'è da dire che quando può il suo lo dice sempre lo fa sempre i suoi interventi anche nel secondo tempo poi ha fatto delle belle parate il secondo gol ragazzi sempre ma una cosa importante scusate mi sono dimenticato il primo gol comunque errori di Krunic è vero Donnarumma era una palla un po' non difficile perché era facile da prendere però era magari un po' pressato il giocatore del Celtic no però Krunic lì non aggancia mai il pallone si dimentica proprio il pallone il giocatore del Celtic la ruba e fa gol il secondo gol pure ragazzi un passaggio per se non sbaglio Freepong dove si trova da solo con Donnarumma Donnarumma si butta per terra Freepong con calma gli fa il pallone netto 2 a 0 e poi ragazzi cosa è bastata è bastata la giocata no la classica giocata calcio di punizione per il Milan c'era Noglu uno dei uomini il secondo uomo più importante dopo Ibrahimovic fa un bellissimo gol di punizione sul paolo del portiere perché il portiere molto probabilmente se l'aspettava dall'altra parte e niente col paolo del portiere c'è col paolo del portiere lo spiazza e quindi c'è il portiere perde il tempo più che altro e quindi fa il 2 a 1 da quella giocata lì ragazzi il Milan si è svegliato fa subito anche il 2 a 2 con Castileco che Rebic lotta in mischia in area di rigore dove dice poi dove la palla poi alla fine rimane lì se non sbaglio forse Rebic la tocca col tacco un pochino dove palla rimane lì e poi c'è Castileco lì pronto a fare il 2 a 2 poi finisce il primo tempo dopo il 2 a 2 ragazzi il Milan ha preso in mano la partita nel primo tempo il Celtic si è visto poco a parte un'occasione verso fine primo tempo il Celtic è sparito inizia secondo tempo ragazzi il Milan parte di nuovo forte e ragazzi che gol ha fatto Augè questo ragazzino che ha preso dal bordo Glink Milan ha fatto benissimo e secondo me lo riscatterà perché è un talento praticamente Augè ha ricevuto palla molto defilato dalla porta lui cosa fa? si porta a spasso due giocatori del Celtic gli arriva il terzo incontro lo salta e poi una volta che lo salta tiro piazzato di piatto sull'angolo sinistro del portiere perfetto gol bellissimo in piena velocità comunque in questo giocatore qua in questo gol ha dimostrato tutto scusate se vedete una coda dietro perché il mio cane ha voglia di giocare nel letto e niente ragazzi bellissimo gol di Augè che poi tra l'altro stasera mi è piaciuto tanto perché ha fatto anche l'assist del 4 a 2 dove vede Ben Asser no Ben Asser scusate Brian Diaz che si libera e anche lui fa più o meno lo stesso gol che ha fatto quello del Celtic nel primo tempo uno scavetto che supera il portiere e niente Max la pianti? scusate ragazzi però c'è la coda che vola e niente un 4 a 2 che poi alla fine Milan se lo merita tra l'altro il Celtic Glasgow ripeto ha avuto anche qualche occasione nel secondo tempo Donnarumma è stato molto bravo attento mi ricordo un calcio di punizione ben parato da Donnarumma e niente ragazzi un Milan che comunque continua a vincere cioè nonostante il turnover nonostante le difficoltà che comunque è andato sotto i due gol da grande squadra in campo è riuscito a rispondere bene e adesso il Milan è qualificamente passato ai sedicesimi di finale di Europa League ragazzi ora sarà tutto nell'ultima partita che se il Milan mette in caso mai vince e il Lille fa un passo falso il Milan potrebbe anche passare da primo per il momento anche il Lille oggi ha vinto e avendo vinto il Lille rimane primo però comunque questi tre punti qua erano importanti perché comunque il Celtic la sua partita a Milano se l'è fatta non è venuto timido le sue opportunità ha avuto le sue azioni la sua partita ecco l'ha fatta il Celtic comunque Milano ha vinto immediatamente continua bene la marcia positiva di Pioli che finalmente è tornato al campo anche lui dopo i previvi di Covid che ha avuto quindi mister Pioli è tornato in panchina e niente ragazzi ora noi ci vediamo poi dopo con il post partita di del Napoli e della Roma quindi direi che per questo video è tutto mi raccomando se il video vi è piaciuto lasciate anche un bel like commentate qui sotto nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate voi di questa partita e soprattutto se facciate anche iscrivetevi al canale qui dalle bianche e veduto bella